Ovviamente siamo contenti sempre di tornare qui a Caserta, di allenarci sempre qui a Caserta prima di ogni grande evento e per noi questa città rappresenta un posto confortevole per prepararci a grandi eventi, siamo sempre molto contenti di allenarci qui ovviamente adesso è il momento della preparazione, è il momento di allenarci, ci sono vari step da affrontare e quindi ci siamo qui per allenarci La sette colli non si aspettano grandissime cose, almeno dal punto di vista della velocità e dal punto di vista dei secondi in basca giustamente è una tappa di preparazione al mondiale, voglio lottare ovviamente per la medaglia d'oro ma giustamente non ci aspettiamo nulla di grande se non un risultato in previsione dei mondiali Grazie a tutti Grazie a tutti